Altri cinque positivi al coronavirus in Molise, uno a Gambatesa e due a San Martino, contatti di un cluster noto, uno a Civitanova, riferimento di un altro positivo. Infine anche uno a Larino, è una donna marocchina che ha appena partorito e che è stata trasferita al Cardarelli, guarisce intanto un Campobassano e sono stati processati 235 tamponi. Il governo va in soccorso delle aree interne, al Molise 6 milioni di euro a fondo perduto che verranno distribuiti in 101 comuni beneficiari, innovazione e rilancio dell'artigianato tra gli interventi indicati. L'SOS Lavoro giunge da Isernia in occasione della mobilitazione organizzata da CGL e Cisle Will. I sindacati incalzano toma decisivo il rifinanziamento dell'area di crisi complessa per ammortizzatori e soluzione delle vertenze. Papa Francesco dona 10 mila euro ai lavoratori della GAM, solidarietà e vicinanza, dal pontefice a operai e famiglie. I soldi serviranno per acquistare materiale didattico ai figli dei dipendenti. Intanto i sindacati hanno annunciato un nuovo presidio martedì 22 davanti alla giunta regionale. In auto con 90 grammi di eroina e cocaina la Guardia di Finanza di Campobasso ha arrestato un 25enne già noto alle forze dell'ordine. A Isernia al via il processo a carico di pastore Sittin di solidarietà, a Torella del Sannio invece sospese le ricerche dell'82enne scomparse il 31 agosto. Infine lo sport il calcio, Campobasso domenica in campo contro il Cerignola, test aperto a mille spettatori disponibili i biglietti. Domani gli anticipi in eccellenza e promozione. Bentrovati a tutti voi, nuova edizione del Tg di Teleregione. Come avete sentito dai titoli in apertura ci occupiamo ancora dell'aumento dei contagi da coronavirus. Altri cinque casi in queste ore in Molise. C'è però una persona guarita, si tratta di un campo bassano. Nelle ultime ore sono stati processati 235 tamponi. Ma sentiamo nel dettaglio in quali comuni è comparso il virus in queste ore. Non si ferma il contagio da coronavirus. 1.907 nuovi casi a livello nazionale rispetto ai 1.575 del giorno prima e 5 in più in Molise. Tra questi c'è una donna che ha appena partorito. Emma Rocchina vive a Larino ed è la moglie dell'uomo risultato contagiato nelle scorse ore dopo il suo rientro dalla Francia. L'ASREM ha predisposto il trasferimento dal Santimoteo di Termoli, lì dove ha dato alla luce il secondo genito, al Cardarelli di Campobasso. Il preside ha chiuso per precauzione la classe dell'altro figlio di sei anni e si attende l'esito del test effettuato su di lui e su altri contatti della coppia. Anche se il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha spiegato che l'uomo in questi giorni è stato visto solamente in ospedale dalla moglie. Positivi anche una persona di gamba tesa, due di San Martino in Pensilis, contatti di cluster noti e un uomo di Civitanova del Sannio, che si era sottoposto a tampone volontariamente prima di rientrare in paese da fuori regione. Insieme alla famiglia e da giorni in isolamento, ha fatto sapere la sindaca Roberta Ciampittiello, dai 325 tamponi processati è emerso che si è negativizzato un Campobassano riferimento di un cluster noto. Gli attualmente positivi in Molise sono dunque 106. La situazione del Cardarelli parla di un ricovero in terapia intensiva e di 3 in malattie infettive. Tutti negativi i tamponi effettuati alla Geamedica di Sernia, mentre si aspettano gli esiti di altri screening effettuati su diversi contatti dei focolai attivi in questi giorni. In quarantena risultano 141 persone. E ora parliamo del lavoro che non c'è, delle tante vertenze in atto. Oggi grande mobilitazione a Sernia da parte di CGL, CISL e UIL. L'iniziativa è per rilanciare l'intera vertenza Molise. Ha seguito per noi questo evento Pierluigi Boragine. La proroga degli ammortizzatori sociali, le vertenze aperte, la riforma fiscale, la lotta all'evasione e ancora il rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati che riguarda oltre 10 milioni di lavoratori. Il diritto all'istruzione sono i temi affrontati all'auditorium di Sernia nell'incontro organizzato da CGL e CISL e UIL alla presenza di Giulio Romani. Il segretario confederale nazionale CISL chiede al governo di ascoltare le parti sociali e di rilanciare il sud e le aree interne. Tutta la grande questione delle infrastrutture e dei gap interno fra meridione e settentrione. Bene, dobbiamo avere un piano infrastrutturale che sia coerente con il modello di società e di economia che vogliamo dare a questo paese e quindi non un piano di infrastrutture a pioggia ma un piano di infrastrutture mirato che parta proprio dal meridione e che tenga conto che il lavoro digitale potrebbe essere una grande opportunità con tutti i dubbi e con tutte le domande che porta con sé potrebbe essere una grande opportunità proprio per il meridione perché potrebbe essere non tanto smart working quanto south working cioè il lavoro che dal sud si fa anche per il nord senza bisogno di immigrare, senza bisogno di spopolare i territori, senza bisogno di erodere quote di reddito nelle economie locali perché lo si porta da un'altra parte. La mobilitazione ad Isernia, Isernia come città simbolo per rilanciare la vertenza molise per recuperare anche tutte le opportunità che sono legate al riconoscimento di area di crisi complessa in particolare alla proroga, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. Isernia perché è il centro di un'area di crisi industriale complessa e credo che sia una delle priorità da rilanciare nella nostra regione. Oggi sono manifestazioni di carattere nazionale, c'è un riflettore nazionale per fare quello che noi vogliamo, ripartire dal lavoro, ripartire dalla dignità del lavoro e ripartire dalla qualità della vita per persone che sono state oltremodo colpite da questa ulteriore crisi. Quindi noi insisteremo sul rilancio della nostra area di crisi complessa, sui finanziamenti e sui contratti di sviluppo che in passato avevano riguardato ingenti risorse per questo territorio chiaramente non trascurando le altre vertenze che sono in corso sugli altri prezzi di regione e anche sul Basso Molise, le occasioni di sviluppo ci sono sul Basso Molise. Credo che debba essere non un monito necessario ma un segnale alla politica. Servono investimenti, politiche industriali, digitalizzazione? Serve ha sottolineato la segretaria della Will Tecla Boccardo credere nella filiera vicola e nel futuro di un settore che altrove genera ricchezza. A momento noi non vediamo un progetto, non vediamo idee, non vediamo un nuovo modello di sviluppo perché questa regione va ricostruita, questa regione va ridisegnata per creare quelle condizioni che possono portare competitività, attrattività per generare un nuovo lavoro ed essere attrattiva per aziende che volessero venire ad investire. Dobbiamo puntare a quella che è la filiera vicola anche attraverso la partecipazione, coinvolgendo Invitalia, quindi la partecipazione del pubblico con il coinvolgimento, la compartecipazione dei privati per ricostruire la filiera e riportare la filiera vicola ad una dignità e soprattutto puntare in Molise sulla filiera vicola. Ed ora veniamo al grande gesto di vicinanza verso i lavoratori di solidarietà che ha compiuto Papa Francesco, ha donato 10.000 euro in favore delle famiglie e dei dipendenti della gamma. Inaspettato gesto di solidarietà e concreta vicinanza da Papa Francesco tramite il direttore della Caritas di Trivento, Don Alberto Conti, ai 273 lavoratori dell'azienda avicola GAM di Boiano, che dal 4 novembre rischiano di rimanere senza sussidi a causa della scadenza della cassa integrazione. Il Pontefice, dopo aver incontrato martedì scorso a Santa Marta Don Alberto, ha donato 10.000 euro da destinare agli operai. Prima di chiedere al Santo Padre la benedizione, ha raccontato Don Alberto, gli ho chiesto una preghiera per operaie e operai della GAM che si sono rivolti a noi, Caritas Nazionale e Diocesana, chiedendo di aggiungere la nostra voce alla loro e di rafforzare la richiesta di una soluzione che valga ad assicurare loro un futuro. Con il Vescovo Claudio Palumbo si è deciso dunque di utilizzare il dono del Papa per acquistare materiale didattico destinato ai figli dei lavoratori GAM. Cultura e istruzione, dice infatti Don Alberto Conti, devono essere difese perché rappresentano l'unica arma di pace che i più bisognosi posseggono per migliorare la loro condizione. A proposito di GAM, i sindacati hanno indetto un nuovo presidio che si svolgerà martedì prossimo, 22 settembre, davanti alla sede della Giunta regionale, a partire dalle 16.30. Proprio in quella giornata è in programma un vertice col governatore Toma per capire quali siano gli sbocchi, se ce ne siano, per questi lavoratori. parteciperanno circa 100 dipendenti adottando tutte le misure di sicurezza anti-Covid che sono state poste in essere dal governo, quindi martedì questa nuova manifestazione. Oltre 6 milioni di euro dal governo a fondo perduto per le aree interne. Sono 101 i comuni del Molise e 64 della provincia di Campobasso, 37 della provincia di Sernia a essere tra i beneficiari del sostegno alle attività produttive dei territori che è stato parato dal governo, un grande lavoro, quello compiuto dai ministri Provenzano e Boccia, le parole della consigliera regionale del PD, Micaela Fanelli, che hanno voluto fortemente introdurre il fondo nella legge di bilancio 2020. A loro va oggi il mio personale grazie, quello di tanti piccoli centri del Molise per i quali, così come tutti gli altri comuni del paese presenti nel lungo elenco dei beneficiari, ha prevalso il criterio della perifericità. Una boccata d'ossigeno per i comuni in difficoltà a causa dell'emergenza, il commento dell'onorevole del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, si tratta di contributi a fondo perduto che potranno essere spesi per la ristrutturazione, la modernamento, l'innovazione, l'ampliamento, incluso quello relativo all'innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, così come le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing online. La cronaca adesso è stato fermato in pieno centro a Campobasso, in macchina aveva 90 grammi tra eroina e cocaina, si tratta di un 25enne del posto con precedenti specifici che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Sentiamo Cristina Niro ancora. Sono trascorsi sette giorni dall'ultimo arresto operato dalla Guardia di Finanza. Una settimana fa in manette è finito un ventenne di Campobasso che in macchina aveva 100 grammi di eroina. Nelle ultime ore un altro arresto e ancora una volta in carcere è finito un altro giovanissimo. 25 anni, anche lui di Campobasso, precedenti specifici alle spalle e in macchina viaggiava con 90 grammi di droga tra eroina e cocaina. Gli uomini delle Fiamme Gialle, dopo l'arresto eseguito una settimana fa, hanno avviato una serie di controlli mirati. Quei 100 grammi di eroina hanno indotto infatti gli investigatori a scandagliare conoscenze e amicizie di quel ventenne che era stato arrestato. Quindi, organizzate verifiche ordinarie nel mondo dello spaccio e del consumo di stupefacenti, durante un posto di controllo in pieno centro urbano, è scattato l'alt a carico dell'auto a bordo della quale viaggiava il 25enne Campobassano. Sottoposto a perquisizione, i finanzieri insospettiti da alcuni elementi hanno eseguito l'accertamento anche sull'auto, dove poco dopo hanno trovato i 90 grammi di droga suddivisi tra eroina e cocaina. Un esito positivo della perquisizione è che ha indotto subito il sostituto procuratore a disporre l'arresto del Campobassano, portato poco dopo nel carcere di Campobasso, dove è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida. Ora andiamo a Torrella del Sannio, dove sono state sospese le ricerche di Maria Domenica Conte, l'82enne scomparsa dal 31 agosto scorso, l'ultimo avvistamento nei pressi dell'abitazione di un vicino, da allora non si è saputo più nulla, Maria Domenica ha fatto perdere le sue tracce, in questi giorni sono stati incessanti i lavori del soccorso alpino, delle forze dell'ordine, delle guardie ecologiche, dei volontari della protezione civile, di tutti gli operatori dei vari corpi di polizia, con elicotteri, droni, cani molecolari, ma non si è riusciti a trovare alcun indizio, alcuna traccia dell'anziana scomparsa. Questa mattina c'è stato lo stop alle ricerche che riprenderanno solo se ci sarà un nuovo indizio. Nel frattempo il sindaco di Torella, Antonio Lombardi, ha proposto un encomio a tutti gli operatori che hanno partecipato in maniera incessante alle ricerche dell'anziana sin qui. Ed ora a Esernia, dove in tribunale è iniziato oggi il processo a carico del dottore Lucio Pastore, processo avviato in seguito alla morte di un'anziana di Sant'Agapito, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia, il sit-in di solidarietà nei confronti del medico del pronto soccorso. In tribunale a Esernia, la prima udienza del processo al primario del pronto soccorso del veneziale Lucio Pastore, rinviato a giudizio per abbandono di paziente dopo il decesso di un'anziana di Sant'Agapito. A pochi metri di distanza, il sit-in del comitato Esernia, beni comuni pro-veneziale e del forum per la sanità pubblica di qualità. La manifestazione si è svolta nelle vicinanze della villa comunale, nel pieno rispetto delle misure anti-covid. Una forte testimonianza di vicinanza ad un professionista che da tempo lamenta lo smantellamento del pronto soccorso e che ora rischia di essere vittima di un sistema che così come concepito non può funzionare. Non siamo qui per esprimere solidarietà a Lucio Pastore. Lucio Pastore si difende da solo con la sua storia umana, con la sua storia professionale. Quindi non ha bisogno di difensori. Ovviamente sì, siamo tutti solidari con lui perché è una persona che da una vita si spende per il diritto alla salute e perché la salute e la sanità pubblica funzioni. Guarda caso invece in questa situazione qui è l'unico indagato di una storia che era inevitabile perché i pronto soccorsi si sa in quale condizione versano. E tra l'altro siamo qui per dire proprio questo alla gente. Cioè badate che questa situazione occorsa alla sfortunata signora non sarà più nel prossimo futuro una sfortunata evenienza ma queste cose succederanno sempre più di frequente. A proposito, il Veneziale in quale direzione sta andando? Ma nella direzione di tutti gli ospedali pubblici più o meno. Reparti che chiudono, quelli che restano aperti funzionano male perché sono carenti di personale, di attrezzature e quant'altro. E quindi tutto lascia presagire che piano piano anche il nostro ospedale se qualcosa non accade a livello istituzionale andrà incontro a, non dico ad una chiusura ma sicuramente ad un forte ridimensionamento. Il GIP ha convalidato l'arresto di un giovane termolese accusato di aggressione rapina. Intanto il questore di Campobasso ha voluto incontrare il cittadino del Camerun che ha collaborato con la polizia durante le fasi dell'inseguimento e dell'arresto del ragazzo. Il GIP del Tribunale di Campobasso ha convalidato l'arresto del giovane originario di Termoli che venerdì scorso aveva prima aggredito un uomo per motivi banali nei pressi del terminal bus di Campobasso colpendolo alla testa con un martello e poi, fuggendo, aveva rapinato una donna ferma al semaforo di via San Giovanni portandole via l'auto dopo averla scaraventata a terra. Il giovane era poi stato bloccato lungo la statale 647 dagli uomini della Polstrade da un equipaggio della volante e arrestato in flagranza di reato per rapina e lesioni provocate alla donna. Lo stesso poi è stato denunciato anche per il tentato omicidio invece dell'uomo aggredito al terminal che, a seguito dell'aggressione subita, ha riportato diverse ferite al capo per fortuna non fatali. Il questore Giancarlo Conticchio ha intanto voluto incontrare il giovane del Camerun da anni residente a Campobasso che venerdì scorso è stato testimone diretto della rapina mentre si trovava in coda al semaforo di via San Giovanni. L'uomo ha contattato subito il 113 consentendo il tempestivo intervento della polizia e ha deciso di seguire con la propria macchina il rapinatore. Rimasto in continuo contatto con la sala operativa di via Tiberio ha fornito indicazioni che si sono rivelate preziose per individuare il percorso di fuga e che hanno permesso alle pattuglie della stradale di piazzarsi lungo l'itinerario per bloccare il giovane di Termoli. Il questore ha espresso profondo apprezzamento al cittadino camerunense che ha dato prova di non comune coraggio e di alto senso civico e che, adoperandosi per consentire agli uomini in uniforme di assicurare la giustizia all'autore della rapina costituisce per tutti, scrive il questore, un esempio di piena integrazione e di completa adesione ai valori fondanti dell'intera società. Dopo il fermo biologico flottiglie di nuovo in mare a Termoli c'è soddisfazione tra gli addetti ai lavori anche se permangono le criticità del settore pesca. I pescherecci sono tornati a largo. Da alcuni giorni è ripartita l'attività di pesca e nei porti sono tornati a sbarcare cassette di gallinelle, cicale di mare, triglie e seppie. Dopo il periodo di fermo biologico obbligatorio riprende quindi il mercato ittico con un giorno dei quattro dedicati allo strascico che resterà di riposo. Questo almeno fino a novembre. Per questa ragione la ripartenza della flottiglia dopo le quattro settimane di ormeggio è stata divisa in due tranche con la prima partenza di martedì nella tarda serata e il resto. Ieri sera siamo andati a documentare questo restart con alcuni pescherecci di rientro facendo un salto anche al mercato ittico per la prima asta della nuova stagione di pesca. Abbiamo intervistato il presidente della Federcop pesca Domenico Guidotti e Franco Catterino uno degli addetti del mercato ittico comunale. In fermo biologico un po' di problemi ci sono. Ancora riceviamo gli aiuti del 2019 nella Cassa Integrazione e negli aiuti agli armatori. È stato un periodo brutto anche perché si è vista la crisi per il coronavirus. Il fatturato è calato e siamo l'unica categoria che non ha ricevuto nessun aiuto di nessun tipo. Quindi la speranza è che qualcosa si sblocchi al ministero e che arrivi una boccata d'ossigeno. Questa è la speranza. L'ultima è la rimodulazione del FEAMP. La speranza è che la regione accetti le nostre istanze, sia le nostre che quelle dell'associazione armatori per rimodulare il FEAMP e gli aiuti al settore. Il mercato comunque le prospettive ci sono, molto pesce uscirà pure fuori dalla regione, quindi dei compratori sono venuti pure dalla campagna e da altre regioni. La speranza è che si ritrovi il pesce a mare, le prospettive ci sono, quindi speriamo che vada tutto bene. È andata bene siccome si è già a vedere il pesce del nostro mare, perché effettivamente abbiamo le griglie, abbiamo le seppioline, le cicale e mazzancolle. Cominciano già a vedere le mazzancolle, quindi il prodotto si vede abbastanza fresco, il prodotto nostro buono e speriamo che domani abbiamo ancora altro. C'è stata richiesta ovviamente? Adesso sì, è stata richiesta. Speriamo che domani, come comincia la filiera, ricomincia di questo sistema. È stata presentata oggi pomeriggio la decima edizione della biennale dell'incisione italiana contemporanea a città di Campobasso, omaggio a Domenico Fratianni, che da domani e fino al 18 ottobre sarà allestita nelle sale espositive del Palazzo Gil, del capoluogo. Sono intervenuti il presidente della regione, il sindaco di Campobasso, il presidente della Fondazione Molise Cultura, presenti anche i figli di Domenico Fratianni, Annalisa e Gerardo, che portano avanti l'opera del maestro e il sogno a cui era così legato, cioè fare del Molise di Campobasso un punto di riferimento dell'arte incisoria italiana contemporanea. Fratianni, come ha ricordato il presidente Toma, non è stato solo un pregevole pittore, disegnatore, incisore stimato in tutta Italia e anche all'estero, ma anche un autentico pioniere dell'arte incisoria e per questo proprio Toma ha proposto che a partire dalla prossima edizione la biennale sia intitolata al maestro Campobassano. Si tratta di 123 opere, tra cui due del maestro, che conducono il visitatore attraverso un percorso di conoscenza dell'incisione italiana. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ha voluto salutare e omaggiare il tenente colonnello Fabio Ficuciello, che lascia il comando dell'Arma dei Carabinieri di Larino. Travaglini ha elogiato le doti umane di Ficuciello. Ringrazio il sindaco, ha detto il tenente colonnello, per la disponibilità e il costante supporto fornito all'Arma dei Carabinieri in questi anni. Esprimo la mia riconoscenza al tenente colonnello Ficuciello, ha concluso Travaglini per il suo impegno silenzioso e la determinazione con cui ha affrontato ogni tipologia di problema che la realtà dei nostri giorni gli ha posto davanti. Ed è il momento del meteo, adesso scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per sabato 19 settembre. Un profondo vortice lascia spazio ad ultimido ritorno dell'alta pressione da ovest, foriero di un miglioramento del tempo con schiarite e via via sempre più ampie. Venti moderati, mare mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione. Campobasso minima 14, massima 26 gradi. Iserne temperature comprese tra i 17 e i 28 gradi. Termoli minima 21, massima 24 gradi. Venafro minima 18, massima 26 gradi. Ed ora qualche istante di pausa, non andate via perché tra poco c'è la pagina sportiva. Ed eccoci ritrovati insieme per parlare di sport. In apertura di questa pagina vi proponiamo l'intervista realizzata al direttore sportivo del Campobasso De Angelis che ci parla del momento della truppa, della truppa rosso-blu, delle grandi motivazioni che stanno animando la squadra quando siamo ormai a pochissimi giorni dall'inizio del campionato di Serie D, il 27 la prima giornata e domani verranno diramati i calendari. Sentiamo De Angelis che fa un grande appello alla città e alla tifoseria. Direttore De Angelis, ormai ci siamo dieci giorni all'inizio del campionato, il torneo di Serie D che il Campobasso vorrà vincere. Non sarà facile però perché c'è un girone molto forte. Chi temete di individuare in particolar modo? Adesso a bocce ferme è difficile individuare una squadra, però ripeto, aspettavamo con ansia questo girone, siamo vicino a ripartenza, speriamo che sia confermato il 27. L'importante è che torniamo a calcio giocato, quello che volevamo. L'obiettivo della società, della squadra è quella di migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno, magari di ripartire proprio da dove ci siamo fermati. Andiamo in un girone, l'EFF lo conosciamo bene, c'è la novità delle Laziali che sono quattro squadre, il Fiugi già c'era, però Aprila, Rieti e l'Alba Longa che sono sempre squadre che sono tecnicamente dotate, anche loro hanno la loro squadra attrezzata, l'Alba Longa parte per fare un campionato di primo ordine, il Fiugi si è rinforzato, però Rieti e il retrocesso della C, Aprila è sempre stata una squadra ossica, perciò penso che non ci siano squadre materasso, ma come d'altronde penso in tutti i gironi. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di fare il campionato che tutti si aspettano. Quindi dovrà fare la differenza anche la grande motivazione che c'è, oltre che il livello tecnico che è alto in molte altre formazioni, oltre che nel Campobasso? Sicuramente, la concorrenza sarà guerrita, però ripeto, noi dovremmo tramutare in campo quell'entusiasmo che avevamo rigenerato qui a Campobasso, questo deve essere anche la città, speriamo che ci trascini come ha fatto lo scorso anno nella seconda parte, perciò noi dovremmo assolutamente ripartire da lì e cercare appunto domenica ogni domenica di portare a casa il massimo. Capitolo mercato, a che punto siamo? Manca ancora qualcosa? C'è stata l'ufficialità di Fabriani, lei sta lavorando ancora su qualche piedina? No, Fabriani si allenava con noi dai primi di agosto, perciò eravamo soltanto una questione burocratica, siamo, penso, completi, poi vedremo strada facendo, se ci sarà qualche occasione, però penso che la rosa è abbastanza ampia, ripeto, manca l'ufficialità di Capozzo che nel 2001 è soltanto una questione burocratica, proprio per il resto penso che siamo abbastanza competitivi in tutti i ruoli. Come ha visto la squadra in questa preparazione estiva? Bene, bene perché il modo di lavorare è sempre lo stesso, l'entusiasmo è lo stesso, sicuramente siamo partiti un pizzico di vantaggio in più perché abbiamo cercato e sarà riuscito a confermare il gruppo dello scorso anno, gran parte, perciò questo sulla carta dovrebbe essere un vantaggio sia anche per i nuovi che arrivano, perciò inserirsi, penso che saremo sicuramente il 27, saremo pronti per la partenza del campionato. Per chiudere sarà un anno diverso, complicato anche per le norme anti-Covid che voi siete pronti naturalmente a rispettare con tutti gli accorgimenti, c'è però una differenza rispetto all'inizio dell'anno scorso, quell'unione a cui faceva riferimento che vi dovete portare dietro, che è nata e scoppiata con la città questo amore nella seconda parte del campionato? Sicuramente questo che ci aspetta è un anno particolare, ma anche adesso abbiamo potuto fare pochi amichevoli, perciò non so come sia, io sono ottimista, spero che tutto ritorni piano piano alla normalità, anche perché noi abbiamo bisogno dell'appoggio della città, della tifoseria, perché per noi è stato fondamentale anche se abbiamo avuto momenti difficili nelle contestazioni, però alla fine ci è servita per cercare di risalire la china, perciò sono stati bravi ragazzi, brava la società, ma la seconda parte penso che la squadra, l'aiuto della tifoseria l'ha sentito, infatti i risultati sono venuti, era ogni domenica un crescendo, perciò alla fine il rammarico è quello che non so cosa sarebbe successo magari con le dieci partite che rimanevano, ero curioso, però l'unico modo per scoprirlo è ripartire da quel famoso primo marzo e riprendere la marcia, questo è. E restiamo a parlare del campo basso, finalmente i tifosi potranno tornare ad assistere dal vivo a una partita del lupo nel rispetto delle normative in vigore e grazie al supporto delle autorità competenti in materia per l'allenamento congiunto con il Cerignola che è in programma allo Stadio Romagnoli domenica a partire dalle 15 sarà consentito accedere allo stadio a un numero massimo di mille persone occupando il proprio posto indicato sul biglietto nel rispetto del distanziamento interpersonale sia frontalmente sia lateralmente di almeno un metro, l'acquisto dei tagliandi per i settori di Tribuna e Curva Nord sarà possibile online utilizzando la biglietteria bigliettoveloce.it o presso il Campobasso Store ed il Club Rosso Blu chiede naturalmente la collaborazione di tutti i propri supporter. Ora il calcio regionale andiamo a vedere la griglia delle partite di questa prima giornata di campionato ci sono tre anticipi si giocano domani alle 15 Baranello Venafro Campo di Pietra Campobasso 1919 e Sesto Campano San Leucio Volturnia mentre si giocheranno domenica alle 15 Alto Casertano Castel di Sangro e ancora Isernia Pietra Monte Corvino Gambatesa Boiano Guglionesi Aurora Aururi e Termoli 1920 Ala Fidelis. In promozione in programma ci sono ben 5 anticipi si giocano domani quindi Altilia Samnium Atletico San Pietro in Valle Guardia Alfiera Poli Sportiva Petacciato questa è l'unica partita che si gioca alle 16 e poi quartiere Campobasso Nord Spinete alle 15 e 30 Ripa Limosani Poli Sportiva Fortore e sempre alle 15 e 30 Virtus Gioiese Trivento si giocano domenica invece Torre Maggiore Cliternina Campomarino Turris Maronea Termoli 2016 taglia il traguardo delle 25 edizioni quest'anno il Rally del Molise unica manifestazione motoristica di quest'annata falcidiata dal coronavirus l'evento a porte chiuse si svolgerà a Campobasso i prossimi 16 e 17 ottobre intanto da domani a mezzogiorno è previsto il via alle iscrizioni e chiudiamo con il calcio a 5 dopo la sgambata di oggi a Boiano che ha dato buone indicazioni sullo stato di forma del gruppo il circolo La Nebbia Cusmolise affronterà domani pomeriggio alle 16 in trasferta lo Sporting Benafro formazione di Serie B un test che vista la qualità dell'avversaria darà ulteriori segnali importanti al tecnico Marco Sanginario in vista della nuova stagione sportiva che lo ricordiamo inizierà il prossimo 17 ottobre è tutto per questa edizione io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi online collegandovi al sito teleregionemolise.it oppure sulla nostra pagina Facebook grazie ancora e l'augurio di un buon weekend arrivederci